A fine partita qui, Lositano 97, 3-0, siamo con Federica Bocca, numero 8 della 97, autrice del primo gol dell'incontro e autrice di una buona prestazione. Cosa ci racconti di questo match? Guarda, niente, è stata una bella partita, ce l'abbiamo messa tutta fin dall'inizio, siamo entrati con Grinta e sì, è arrivato quasi subito il primo gol, siamo contenti di com'è andata, potevamo fare sicuramente di più, era anche molto sentita come partita perché nella Lositano ci sono anche diversi giocatrici con cui giocavo lo scorso anno nel Real Peneste, però siamo soddisfatte e vogliamo continuare sicuramente così e niente. E siete riusciti appunto a portare questi tre punti a casa, riuscivi a segnare tre gol, avete anche meritato un po' di più, visto le tante occasioni avute, comunque avete girato bene palla, anche il pressing ha funzionato alla perfezione. Sì, abbiamo sbagliato anche molto, ma anche loro hanno sbagliato, comunque è stato un po' da tutte e due le parti un po' di errori, però siamo contenti, ora riprendiamo la settimana per affrontare la prossima. Perfetto, allora ti ringraziamo per l'attesa qui, per l'intervista, ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie.